Ciao a tutti, mi chiamo Luca Fattori, sono un cantante e insegnante di canto e questo è il mio nuovo canale dedicato alla voce umana che si chiama Attraverso la voce. Era da molto che volevo aprire appunto un canale che si occupasse di voce a 360 gradi. Qui troverete infatti recensione di dischi, di libri, interviste e anche video dedicati a aspetti più tecnici dell'utilizzo della voce. Sono un cantante appunto da 20 anni, appassionato di voce, praticante dello strumento voce ormai già da tanto tempo. Iscrivetevi al canale, accendete la campanella per rimanere sempre informati sull'uscita dei nuovi video. Ogni martedì uscirà un nuovo video a tema sempre diverso e niente, ci vediamo martedì con il primo video. Ciao!